Gesù, anche noi lo vogliamo e ripetiamo, Gesù tu mi puoi liberare, Gesù tu mi puoi salvare, togli dalla mia mente l'angoscia, la tristezza e la disperazione, togli dal mio cuore la paura, l'ansia e il timore, regalami Gesù il tuo amore che mi avvolga, vieni col tuo amore Gesù, riempi la mia persona, soprattutto Gesù ti voglio pregare per tutti coloro che vivono continuamente con la paura del futuro, per tutti coloro che non riescono a dormire, per tutti coloro che non riescono ad affrontare la giornata con gli attacchi di panico, Gesù liberaci.